Etilica Benvenuti nel mondo di Etilica, uno dei principali commerci italiani specializzati in wine e spirits. Fondata appena 5 anni fa, Etilica ha rapidamente conquistato il cuore degli appassionati di vino, diventando un punto di riferimento nel settore. Con un catalogo di oltre 4.500 etichette attentamente selezionate, Etilica offre una vasta gamma di vini italiani, champagne e distillati. La nostra piattaforma è validata da oltre 14.000 recensioni certificate, con la migliore online reputation di tutto il settore. Cosa ci distingue dagli altri? Una logistica interna totalmente informatizzata ed estremamente efficiente, che ci permette di ottimizzare i costi e garantire consegne rapide e sicure in 24-48 ore. La nostra ampia offerta è dedicata sia ai consumatori finali che agli operatori del settore eorica, attraverso canali e piattaforme dedicate. Siamo cresciuti molto, ma non vogliamo fermarci. Per questo abbiamo un programma che punta ad ampliare rapidamente la nostra presenza nei mercati internazionali, ad incrementare la sezione relativa ai fine wines e terminare lo sviluppo del motore di ricerca semantico e del sommelier virtuale, entrambi basati su intelligenza artificiale. La forza dietilica è la capacità di declinare al futuro una competenza commerciale nel settore dei vini che ha più di 50 anni. Quello che abbiamo visto dal 2019 a oggi è solo l'inizio di un percorso solito, che è ancora un importante spazio di crescita. Tutti i segnali che abbiamo registrato indicano che questa è la direzione giusta. Per le nostre performance siamo stati inseriti dal Financial Times nella sua prestigiosa classifica Top 100 delle società a più alto tasso di crescita a livello europeo. E adesso, se ti piace l'idea, celebriamo il congresso di Etilica con un buon bicchiere di vino. Brinda con Etilica.it Brinda con Etilica.it